ciao a tutti ragazzi io sono chef blog e oggi siamo in una nuova ricetta svizzera si chiama rosto di patate e adesso lo andiamo inquadrare prima però per questa ricetta iscrivetevi al canale lasciate like buon natale la ricetta di natale 25 ieri per la vigilia di natale abbiamo fatto le polpettine con salsa svedese quindi oggi in svizzera e andate a vedere il video di ieri ingredienti del rost 5 patate tagliate come vedete molto fini aggiungete un uovo 25 grammi di farina due cucchiai sarebbero poi un po di spezie a chi piace io ho messo rosmarino e quelle patate ci stanno proprio bene poi ragazzi attenzione il segreto è una bella padellona larga con olio caldo e siamo pronti per lanciare quanto quanto olio quanti grammi quanti grammi non si fa a occhio così vedi un po di 3 4 cucchiai e adesso attenzione alcuni segreti per il rost di patate il segreto del rost vedete fa modellare come se fosse una mega frittatona è importante fare sette minuti di cottura da un lato poi dopo al momento del bisognerà girarlo e lì saranno problemi perché si rischia di cascarci per terra però vi faremo vedere anche questa ricetta molto più veloce veloce ok dada siamo a buon punto ragazzi tra poco dobbiamo girare ecco qui come è venuto friggendosi il rost di patate e lui potrebbe essere un cliente molto favorito molto favorito allora adesso dobbiamo fare l'assaggio che vediamo fra poco ok io vi consiglio di come vedete vallo a petti di pizza come pizza di patate è una specie di pizza di patate infatti guardate e tu adesso e adesso io farò l'assaggio signori è caldissima raga non vorrei anche questa volta chef blog si distriggerà la lingua attenzione è un po calda ma molto buona raga rifatte questa ricetta assolutamente cammi e dite cosa devono fare iscritti iscrivetevi al canale seguite tutte le mie ricette squisite dai che siamo già due ricette ciao ragazzi ciao amici buon appetito buon natale adesso vado a mangiare ottimo adesso possiamo iniziare con le patate si prendiamo veloce lui potrebbe essere un cliente molto favorito molto favorito nuova ricetta svizzera sì